Buonasera a tutti, sono Marino Vocci, responsabile di Slow Food Trieste, qui c'è Franco Zanini che tra l'altro rappresenta forse più degnamente di me questa associazione benemerita, dal quale è partita quest'idea di incontrarci qui in uno dei luoghi di eccellenza della scienza della ricerca non solo testina ma a livello nazionale per affrontare quello che forse è il tema più importante che coinvolge l'intera nostra comunità che vive su questa terra, la grande sfida del cibo partendo un po' dai ragionamenti che si fanno in questi ultimi tempi, noi abbiamo avuto ospite a Trieste recentemente Carlo Petrini in occasione della presentazione di questa esperienza legata agli orti in condotta, a Trieste dire in condotta è sempre un po' ingeneroso per cui bisognerebbe dire gli orti del convivium, meglio che condotto, è un'espressione veramente che non rende merito a questa splendida iniziativa che mette insieme quasi un migliaio di bambini, insieme a molti insegnanti e soprattutto insieme ad alcuni nonni che così recuperano la memoria di quando erano contadini e cercano di trasmettere questa memoria alle future generazioni riportandole un po' a questo rapporto con la terra. Come dicevo, una delle riflessioni che Slow Food ha lanciato recentemente anche in occasione di Terra Madre e del Salone del Gusto che hanno coinciso come manifestazione all'ingotto di Torino è quella di questo mondo che ha bisogno di una rivoluzione legata al problema del cibo, però la rivoluzione globale ha bisogno di radici locali e quindi abbiamo cercato di portare qui all'interno di questo luogo così prestigioso una serie di esponenti che ha ricordato l'amica Raffaella Rumiati che io ringrazio per aver accettato questo nostro invito. Dicevo abbiamo voluto portare attorno a questo tavolo una serie di riflessioni partendo da alcuni elementi che secondo me meritano anche una nostra riflessione e un nostro approfondimento perché sostanzialmente noi pensiamo che il cibo è esclusivamente alimentazione ma non è soltanto così. Il cibo è certamente alimentazione però è anche salute, è anche piacere, è anche identità, è anche memoria, è anche trasmissione della memoria attraverso le generazioni, è anche salute perché a secondo di quello che mangiamo anche il nostro organismo può risentirne. Per cui pensate attorno al mondo del cibo e della cultura e civiltà della tavola c'è un universo del quale molte volte ci sfuggono alcuni elementi e quindi fare una riflessione su questo tema pensando anche a cosa fa la ricerca, la ricerca triestina, questi poli ripeto così importanti e prestigiosi che operano in questa nostra città e che spesso noi poco conosciamo, per cui io credo che sia importante far conoscere anche quanto sul tema del cibo fa questo nostro mondo legato alla ricerca. E il terzo elemento, come ha detto giustamente Raffaella Rummiati, è quello di capire qual è la sfida di rilanciare il tema della produzione, della produzione del cibo all'interno di un territorio così particolare e così difficile come Trieste. Questi erano sostanzialmente gli argomenti per i quali noi ci siamo ritrovati e ci ritroviamo oggi qui a fare questa riflessione. Questa riflessione che parte anche da quanto si dice da parte di Slow Food da alcuni anni in cui si parla del cibo non soltanto buono ma anche pulito e giusto e quindi un tema sul quale noi dobbiamo porre un nostro elemento di attenzione. Di valorizzazione del cibo soprattutto a livello locale promuovendo quelle che sono le produzioni, i metodi di consumo sostenibile. È un tema sul quale in questi ultimi anni c'è stata una riflessione legata anche a quella che è la salvaguardia sostanziale delle biodiversità alimentari. Sapete che ci sono, almeno questi sono i dati, esistono al mondo circa 30.000 piante commestibili. 30.000, sono un'enormità. Bene, sostanzialmente noi, l'uomo in tutta la sua storia, ha imparato a utilizzare sostanzialmente 7.000. In questi ultimi anni abbiamo una concentrazione all'interno di quelle che sono, come dire, le grandi multinazionali del settore agroalimentare che fa sì che circa 30 culture coprano sostanzialmente il 90% delle calorie che noi usiamo mentre ci sono tre culture particolari che sono il mais, il riso e il grano che occupano più del 50% di questo. Noi abbiamo quindi dimenticato tutta una serie di varietà e di specie minori che sono, come dire, sacrificandole a quelle che sono le monoculture industriali. Ecco che rilanciare anche le produzioni a livello locale, quelle produzioni che tradizionalmente possono essere nei diversi settori e poi vedremo alcuni elementi caratteristici proprio di questa nostra realtà triestina e provinciale e trasfrontaliera anche, perché c'è anche questo elemento della dimensione trasfrontaliera di questo territorio. Le produzioni, l'aria, il suolo, l'acqua, il mare all'interno di quest'area dell'alto Adriatico o quella che io chiamo da Cerso, l'area che va da Cerso al Carso non viene segnata dai confini politici e amministrativi, no? Ci sono altri confini che segnano le caratteristiche di quest'area, che non sono certamente i confini e quindi recuperare, superare, come dire, i vecchi confini per elaborare un progetto territoriale che in qualche modo valorizzi la particolarità di quest'area superando il confine è una delle grandi sfide che noi abbiamo cercato di inserire anche all'interno di questo dibattito. Per cui recuperare il rapporto con la terra, questo è un tema che noi cerchiamo di rilanciare cercando anche di valorizzare quelle possibilità che quest'area così particolare estremamente particolare, come quello della provincia di Trieste, sospesa fra mare e Carso sapete il Carso ha una caratteristica estremamente particolare perché è ricco di biodiversità soprattutto vegetale, ma per quanto riguarda la coltivazione per esempio della vite è un territorio in cui la terra offre scarsissime poche occasioni e nonostante questo abbiamo degli ottimi vini e noi cercheremo di farvele gustare anche perché credo sia la parte non più interessante ma una delle parti interessanti di questo nostro appuntamento di questa sera. Per cui abbiamo cercato di portare all'interno di questo nostro incontro due elementi di riflessione in maniera particolare. Il rapporto con la terra, la possibilità di ritornare alla terra magari partendo da quelli che ho ricordato prima che sono gli orti in cui sono protagonisti i bambini che imparano grazie soprattutto agli insegnanti, ai loro nonni, in qualche modo recuperano la memoria antica, la memoria antica di quella che noi ricordavamo questa mattina, pensate il popolo, l'Italia negli anni alla fine della seconda guerra mondiale aveva il 50% di contadini, oggi non arriviamo al 5% di persone che lavorano nel settore agricolo. Per cui pensate quanta memoria c'è del rapporto e del lavoro della terra all'interno delle generazioni dei più vecchi, una memoria che noi dobbiamo recuperare e questo anche per una città particolare come Trieste in cui c'è una comunità come quella slovena fortemente legata al territorio e anche al rapporto con il territorio e alle produzioni del territorio ma anche la popolazione che è arrivata a Trieste nel secondo dopoguerra, penso agli istriani che in gran parte erano di origine contadina e poi sono arrivati qui e hanno fatto tutti gli altri lavori però dentro le memoria di mio padre e di mia madre c'è il lavoro della terra che in qualche modo hanno cercato di trasmettere anche a me e io ho cercato di trasmettere alle mie figlie proprio un rapporto che noi abbiamo bisogno di recuperare, trasmettere il valore del rapporto con la terra e anche delle produzioni del settore primario, per cui abbiamo cercato di portare questa riflessione legandola a due elementi, anzi a tre elementi uno, il vino, ecco questo è un tema che noi abbiamo cercato di sviluppare quindi spiegherò i motivi per cui abbiamo tre produttori di vino perché sono tre produttori che coltivano su quelli che erano le aree a fortissima vocazione vitivinicola della provincia di Trieste che erano i pastini, i terrazzamenti che sono proprio qui a poche centinaia di metri dalla Sissa, l'attuale sede della Sissa nell'area di Piscianzi, questa è la località subito qui accanto abbiamo questi vecchi terrazzamenti, questi vigneti da città che producevano vini molto importanti e anche molto buoni da bere io credo di essere stato iniziato al consumo del vino un consumo consapevole e responsabile, vi assicuro non soltanto dallo zio contadini istriano che mi faceva intingere il dito nella tezza in cui si versava il vino dalla botte ma di aver imparato a bere il vino proprio qui nella osmizza del maresciallo lo cito perché non c'è più e quindi non vi faccio pubblicità ma ci sono dei grandissimi produttori di oggi che coltivano la vite qui sui terrazzamenti, sui pastini che sono a ridosso della città, al fianco della Sissa e che potrebbero essere aumentate le superfici da destinare come potrebbero essere importanti recuperare quei pastini di cui parlerà quei terrazzamenti, quei paesaggi terrazzati all'interno del mosaico ambientale che si crea all'interno, nello spazio della costiera triestina in cui storicamente la vita, l'ulivo e anche le produzioni orticole erano coltivate all'interno della nostra provincia e forse oggi grazie al progetto legato al prosecco si potrebbe utilizzare gli spazi che sono disponibili per recuperare, non per andare sul prosecco su cui io sono contrario per tutta una serie di motivi che se volete poi vi spiego però potrebbe essere quella un'occasione per andare a recuperare un pezzo del paesaggio culturale e culturale della costiera triestina l'altro elemento è quello che dicevo prima del ritorno alla terra recentemente Carlo Petrini diceva che quando tiene le sue conferenze all'interno delle grandi università americane ma anche delle grandi università italiane fino a 10-15 anni fa quando diceva ma voi che studiate economia voi che studiate ingegneria voi che studiate fisica chi di voi è intenzionato a lavorare la terra? si alzava uno uno timidamente e Carlo Petrini lo chiamava vicino a sé e poi diceva a tutti gli altri ed era l'unico che si avvicinava e diceva a tutti gli altri e voi 400 pensate di sfruttare solo questa persona qui per farvi alimentare in futuro? beh questo succedeva una decina di anni fa oggi nelle grandi università americane in quella retta dell'università dell'eccellenza mediamente si alzano delle 40 alle 50 persone e lì c'è qualcosa di interessante che diceva Carlo Petrini pensate a quei genitori che investono milioni o centinaia di migliaia di euro per far studiare fisica, matematica, ingegneria i propri figli e scoprono che i propri figli poi andranno a fare i farmer come li chiamava lui però ecco c'è un cambiamento c'è un cambiamento e noi abbiamo assistito anche all'interno della provincia di Trieste non soltanto negli anni 80 ma anche negli anni 2000 a ritorno alla terra di moltissimi produttori di moltissimi giovani giovani imprenditori che prima avevano scelto di lavorare nel terziario che anche all'interno delle fabbriche della nostra provincia e poi hanno recuperato questo amore per la terra e si sono messi a produrre vino, olio, formaggi e altro che può essere prodotto all'interno riso anche questa è una cosa particolare che dovremmo ricordare quindi questo ritorno alla terra ecco far capire che domani si può investire il nostro futuro ritornando a lavorare la terra o lavorando la terra una cosa sul quale noi potremmo in qualche modo come dire insistere proprio perché sapete poi ci sono questi modelli di comportamento per cui fare il contadino sembra qualcosa che sia come dire che non non ci deve assolutamente riguardare invece ci può riguardare il terzo elemento e su questo veramente chiudo perché è un altro pezzo di questa di questo territorio straordinario che è la provincia di Trieste poco per quantità ma altissima per la qualità della produzione il tema della produzione del formaggio per cui noi abbiamo portato qui uno di quelle che fa parte delle comunità del cibo di Slow Food pensate il formaggio triestino sostanzialmente era stato abbandonato negli ultimi 40 anni come tutto il mondo agricolo beh ultimamente molti produttori quasi tutti legati alla comunità slovena storicamente radicata sul territorio e presente sul territorio hanno fatto la scelta di ritornare ad allevare le mucche non soltanto le mucche anche le pecore o anche le capre questo è quello che offre la provincia di Trieste e questo io cercavo di portarvi come informazione anche ci sono dei bravissimi produttori di formaggio ovino caprino e vaccino alcuni di quali hanno raggiunto vette a livello nazionale internazionale io cito un formaggio che poi potrete assaggiare che è il formaggio Yamar Yamar vuol dire grotta in sloveno è un formaggio di latte crudo che viene sostanzialmente fatto stagionare nella grotta del Carso ed è un formaggio che ha raggiunto le vette della qualità a livello nazionale internazionale ecco quindi ci sono delle possibilità e cosa sfrutta questo formaggio cosa sfrutta questo formaggio sfrutta l'altissima qualità del latte e da cosa deriva l'altissima qualità del latte deriva dalla ricchezza della biodiversità vegetale presente all'interno del territorio carsico pensate questo mondo come io dico sempre sospeso tra mondo mediterraneo ed Europa di mezzo offre quasi 1200 specie vegetali questa ricchezza di varietà delle specie vegetali rende il latte particolarmente ricco particolarmente ricco di sapori particolarmente importati veramente di altissima qualità che rende questo formaggio del carcio triestino un formaggio di eccellente qualità io ho voluto accennare a questo poi ci sono il settore del miele che ha anche vette di altissima qualità l'olio d'oliva però importante è questo capire che anche in un territorio così complicato così difficile lavorare la terra del carcio non è facile lavorare sul carcio poi con queste temperature magari con il ghiaccio che in qualche modo sempre più frequentemente è presente nei nostri inverni e beh ci fa capire che dobbiamo in qualche modo veramente recuperare quelle che sono le caratteristiche le storie le storie alimentari le identità alimentari le identità delle produzioni per cui quando noi parliamo di vitosca parliamo di terrano parliamo di glera parliamo di qualità di viti che sono storicamente presenti sul territorio come la bianchera questo olio di altissima qualità che si sono selezionate sul territorio quindi si sono adattate il nostro territorio e sfruttano le caratteristiche di territorio per esaltare la tipicità e soprattutto la qualità di queste altissime produzioni ecco io avrei concluso questo mio lungo intervento e sgangherato intervento ma dovete perdonarmi io sono fatto così per cui mi piace raccontare questo nostro territorio anche attraverso le bellezze e le bontà e le splendide bontà che sono presenti soprattutto per valorizzare il ruolo di questi pionieri nei diversi settori della viticultura dell'audicultura scusate nel settore caseario che in qualche modo hanno reso possibile che anche in questa nostra piccola provincia questo piccolo settore primario venga esaltato e valorizzato attraverso queste produzioni fratte con grande sapienzialità quindi dobbiamo ringraziarli perché dobbiamo recuperare questo rapporto con la terra grazie